FLOGARDEN Nel GARDEN troverai piante, accessori per il giardinaggio, vasi, concimi, oggettistica e non solo. Con il servizio Interflora puoi regalare i nostri fiori in tutto il mondo. Vieni a trovarci al FLOGARDEN in Contrada Serra Regina 10 a Floridia. Ti aspettiamo anche alla Casa del Fiore in via Giusti 135 a Floridia, angolo via Archimede. FLOGARDEN, da oltre 30 anni. I fiori più belli, ai prezzi più bassi. FLOGARDEN, da oltre 30 anni. I fiori più belli, ai prezzi più bassi.